David Gordon Green, dopo aver ripreso in mano il franchise di Halloween, dirigendo la sua trilogia e ripartendo dalla fine del primo capitolo, non tenendo in considerazione tutti i restanti e discutibili capitoli della saga, decide di fare la stessa cosa con L'Esorcista, il capolavoro di William Friedkin del 1973. Lo sappiamo, siamo nell'epoca dei requel, quindi di quei film che vogliono aggiungere qualcosa di nuovo ma senza staccarsi da ciò che c'è stato in passato. E quindi nelle sale italiane dal 5 ottobre del 2023 possiamo trovare L'Esorcista, il credente, scritto anche dallo stesso David Gordon Green assieme a Peter Settler. Allora, io non volevo essere pessimista perché comunque Halloween e Halloween Kills li avevo trovati due buonissimi lungometraggi, certo non all'altezza del capolavoro di John Carpenter, ma allo stesso tempo capaci anche di appassionarmi, di incutermi timore, li rivedo sempre volentieri. Il problema grosso si è verificato con Halloween Hens, che per me è un pessimo capitolo conclusivo di questa nuova trilogia. Certo, anche questa volta avrebbe toccato un capolavoro senza precedenti della storia del cinema, l'horror capace di sconvolgere il mondo. A distanza di 50 anni da quel 1973 sarebbe riuscito a fare la stessa cosa con questo seguito fuori tempo massimo? Chi lo sa, ho deciso lo stesso di dare un'opportunità a questa pellicola nonostante le critiche negative che avevo letto e sono andato a vederla a luci cinemas di Bicocca di venerdì sera. In sala eravamo molte persone ma non era riempita. Al box office poteva andare meglio perché è stato realizzato con 30 milioni di budget e sta faticando ad arrivare ai 60. Ce la farà, però non so con certezza se riuscirà a triplicare il budget utilizzato, anche perché molto presto approderà in streaming. Voglio solo dire una cosa. Pazzuzzo perdona loro perché non sanno quello che fanno. L'esorcista e il credente è un qualcosa di talmente sbagliato sotto tutti i punti di vista che il credente è proprio quello spettatore ingenuo che credeva di trovarsi di fronte ad un bel film. Parliamoci chiaro, non è che mi aspettassi un film paragonabile al capolavoro del 73, però nell'anno della scomparsa di William Fritkin perlomeno una pellicola capace di ricreare certe atmosfere, di omaggiare quel che c'è stato prima, me la sarei aspettata. Perché non è che questo sia un film generico sugli esorcismi come ne escono tanti dal titolo sono stato riposseduto, punto esclamativo. Vuole essere il seguito dell'esorcista, quindi se tu ti poni come continuazione di uno dei capisaldi della storia del cinema horror, io ho delle aspettative, io ho delle pretese. Non sto guardando gli occhi del diavolo 2. Già ai tempi l'eretico non mi era piaciuto, ma in confronto all'esorcista il credente aveva un suo stile, aveva una sua dignità. Qua è come se fosse stato massacrato il capolavoro, non fosse stato compreso. Non è che bastano due cani che si azzuffano per ricreare quel che c'era prima. Non è che basta una possessione per dire sto facendo l'esorcista 2. Anche perché se c'è una cosa anticlimatica in questo nuovo film di David Gordon Green è proprio l'esorcismo finale. Ma mi sembrava di star guardando uno scary movie. Vogliamo parlare di quanto sia brutto a livello di messa in scena, insensato, con persone di tutti i tipi all'interno di questa stanza tranne che un prete vero e proprio come Cristo comanda. Nel film del 73 tutti i personaggi erano iconici, tutte le sequenze si facevano ricordare, non solo quelle horror. Pensate alla bellezza di padre Merrin con Pazuzu dall'altra parte dello schermo, quell'immagine lì è cinema. Il prete che scende dalla macchina con la nebbia e la casa è cinema, è la locandina del film. Qua non c'è una sequenza, un segmento che possa risultare iconico. È tutto dimenticabile. Eppure Leslie Odom Jr. nei panni di Victor Fielding, il padre di una delle due bambine che poi verranno possedute dal maligno, è anche bravo come attore. Solo che tutto il resto non riesce mai a far breccia nel cuore dello spettatore. Noi vediamo una cozzaglia di situazioni buttate lì. Queste due ragazzine che finiscono nel bosco perché una delle due Angela vuole evocare sua madre morta nel 2010 a causa di un terremoto. Lei è nata, sua madre morta, era nella sua pancia, quindi la vuole evocare ma in realtà coloro che richiamano sono dei demoni, sono dei diavoli che entreranno nel corpo delle due bambine e quindi daranno del filo da torcere ai genitori. Viene richiamata Ellen Burstein, poverina, ha 90 anni, Chris McNeil pare la nonna di Titti. Sta nelle stanze di questa casa, gira qua e là e non si riesce a capire che senso abbia ai fini della trama. A parte c'è una delle battute più brutte a livello di dialogo, io volevo prendere la sedia, sradicarla e buttarla contro lo schermo. Victor va a parlare con Chris McNeil e esce fuori il discorso della possessione di Reagan. La madre non vede la figlia da anni perché nonostante alla fine del primo film la bambina si sia dimenticata tutto, lei decide di scriverci un libro, si appassiona agli esorcismi, lei che era atea, ok, quindi la figlia non la prende bene e se ne va. Quando Victor domanda il perché lei non avesse partecipato all'esorcismo della figlia, dice che è colpa del patriarcato. Avete capito bene? Il patriarcato, ma brutta testa di merda. Ma già nel film, quando la tua figliola si masturbava col croce fisso, hai rischiato di morire nel peggiore dei modi. Lascia fare un esorcismo a degli esorcisti professionisti, no? Che già padre Merrin è morto schiantato. Cosa dai la colpa al patriarcato che se tu fossi entrata in quella stanza magari t'ammazzava nel giro di due secondi? Cosa c'entra al patriarcato? C'entra che tu sei faccia a faccia col diavolo, no? Con Henry Cinema 98. Porca miseria. Questi dialoghi, ripeto, temi importantissimi, ma contestualizziamoli. Se sto guardando Barbie capisco che c'è un attacco al patriarcato, al maschilismo, al sistema fallocentrico. Qua che attacco c'è? Attacco al diavolo che veramente ti ammazza? Cioè, ma cosa c'entra il patriarcato? Quindi dei dialoghi. Poi lei, nonostante i suoi novant'anni, è sempre in forma, è ancora una bella donna, una bella signora anziana, però poi arriva, entra nella stanza con la bambina posseduta che con il croce fisso l'ha cieca. Eccotelo il patriarcato. Lo volevi il patriarcato? Questo è il patriarcato? Questa è la colpa del patriarcato, no? Resta c'è che poi, come una blatta per tutto il film, in una saletta dell'ospedale, non ha più senso il suo personaggio. Ma che ritorno è? Ma che grande interpretazione è? Il ritorno di Ellen Burstyn, che spero abbia guadagnato tanti soldi, per poi sul finale vedere arrivare Linda Blair, più scontato del Black Friday. Cioè, lo sapevo che sarebbe tornata anche la figlia, perché sicuramente se la vogliono tenere stretta per il seguito del 2025, che io dubito lo facciano, o abbassano il budget o per me non lo vediamo, però mai dire mai. Solo che qua, a differenza di Halloween, si parte malissimo. Ma poi vogliamo parlare dei personaggi. Ce ne fosse uno, Il Prete, tu dici, è un film sull'esorcista, Il Prete sarà fondamentale. Il Prete sembra prelevato da Scary Movie 2, pare Peter Griffin. Il Prete che resta in macchina con il padre che dice la vera battaglia dentro. Battaglia? Ma non siete mia su un campo di soft air? Ma siete contro il diavolo? Ma che sto guardando? Lo stesso diavolo che poi prende in giro i personaggi, che poteva essere una cosa carina se sviluppata bene. Ma in quel contesto, con quella messa in scena raffazzonata e orribile, a me era quasi venuto da ridere. Che dice, deve scegliere chi sopravvive fra me e Christine, ovviamente il padre, quello che dovrebbe essere il pastore, no? Quindi accogliente e misericordioso, sceglie la figlia che in realtà muore. Perché colui che scegli in realtà perde la vita. Però è talmente tutto sopra le righe, è talmente tutto surreale, che non c'è stato un attimo in cui abbia provato timore, spavento, non ne parliamo. Cioè, ma vi ricordate? Il potere di Cristo ti espelle. Quando ripetono padre Merrin e padre Carrassi, il potere di Cristo ti espelle. Con gli effetti prostetici, Linda Blair meravigliosa che si innalzava in cielo sopra il letto, il potere di Cristo ti espelle. Ma qua, mangiati due crespelle, perché veramente anche il trucco di Christine, di Angela, sembrava un'intossicazione alimentare di gamberoni, cioè non sembrava una possessione demoniaca. Poi anche qua, cioè, devi utilizzare il computer, l'effetto digitale per fare gli occhi in un certo modo. La voce deve essere computerizzata. Ora, non dico come nel film del 73 di prendere una fumatrice incallita a doppiare Reagan, ma nemmeno di ricorrere sempre al digitale. Basta! Non c'è spavento, non c'è realismo, non è realtà questa. Cioè, io mi chiedo, per il prossimo film, che idee hanno in mente? Vogliono fare, boh, un film dedicato all'introspezione del diavolo? Perché già nell'Esorcista 2 L'Eretico si voleva dare una spiegazione al perché Pazuzu avesse posseduto Reagan. E per me è una cosa sbagliatissima, perché meno Sai è più spaventa. Se tu vuoi dare delle spiegazioni, però almeno L'Eretico aveva una sua dignità. A me non piace. Però, rispetto all'Esorcista Il Credente, mi rivedo mille volte quel film lì, sopra le righe, un film dove tra l'altro c'era una splendida Linda Blair come era bella nell'Eretico. Comunque, vabbè, a parte questo, L'Esorcista Il Credente è il classico film horror brutto come ne vediamo tanti, che non ha niente a che vedere con L'Esorcista, ma che proprio per questo motivo fa arrabbiare di più, perché ne vuole essere il seguito. Non c'è niente di caratteristico, anzi, aggiungono anche dei jumpscare che, se nel film originale erano a regola d'arte, qua sono i soliti jumpscare come si vedono sempre. E quindi vediamo la bambina che esce dal vetro della sala d'ospedale che guarda Ellen Burstyn. Ellen Burstyn che poteva essere un personaggio di spicco, comunque lei ha vissuto in prima persona un dolore atroce perché sua figlia è stata posseduta. Poteva dall'inizio alla fine essere, ad esempio, invece questa stupida entra in casa e fa un esorcismo da sola. Ma chi sei? Ma ci hanno sempre insegnato che per fare un esorcismo serve intanto il consenso del Vaticano. Ma, cioè, che una persona ci creda o no, anche un esorcista, un prete, lei... e prende una croce nell'occhio, anzi in tutte e due gli occhi, e se lo merita. E poi per tutto il film non la vediamo più. Dice, non vedo l'ora di vedere mia figlia, ora tu lo puoi dire in modo chiaro, vai. E poi, cioè, il finale, con tutti questi fattucchieri, persone prese a caso, suore, boh... che fanno l'esorcismo a queste due legate su una sedia che nemmeno... non lo so, Ghostface quando legava Gale Weathers e Linus sul finale di Scream 3, ma guardatevi The Conjuring, ricordatevi il primo The Conjuring meraviglioso di James Wan, cos'è riuscito a fare Wan su una sedia con una persona posseduta in una stanza in cantina, senza il bisogno di dover strafare in nessun modo con pochi personaggi, in modo minimalista, com'era minimalista l'esorcista, cos'è riuscito a fare Wan? Sai se l'avesse diretto James Wan, questo film? Io da un lato mi sarei atteso, non dico un grandissimo film, ma quasi. Se fosse stato all'altezza di un The Conjuring, volete vedere un vero seguito dell'esorcista? Un horror che in questi ultimi dieci anni si può considerare degno di nota, guardatevi Insidious, quindi del 2010, immaginate voi, guardatevi The Conjuring, guardate The Conjuring, il caso Enfield, questi sono veri horror che richiamano, che hanno appreso la lezione da Fritkin e dai maestri del cinema del terrore. David Gordon Green, cos'ha imparato? E mi dispiace bocciare il film, perché dopo che mi aveva comunque soddisfatto con Halloween e Halloween Kills, mi attendevo che qualcosina in più sapesse fare, invece non sa fare niente. Devo dire che Lydia Giewit, la ragazza che interpreta Angela, la posseduta, la bambina di colore, bravissima come attrice, però purtroppo non viene ben diretta, ha un viso che sa comunicare, ma non c'è mordente. Poi se il primo tempo, stando comunque sempre sull'orlo della mediocrità, però lo potevamo definire minimamente più riuscito. Il secondo è l'emblema dell'inutilità, dell'assurdità, della presa in giro, cioè sembra di vedere una parodia. Quando è finito e parte la storica colonna sonora ho detto, ma mi stanno prendendo in giro, ma io non ho visto l'esorcista e il credente, ho creduto di vedere l'esorcista, cioè perché nel senso, e anche in sala ho percepito malumori, ho percepito persone che sono rimaste deluse, ma giustamente, ma cos'è questa cosa? Cos'è? Non c'è niente, tra una settimana, ma anche domani io mi sono dimenticato tutto, ma vi ricordate anche solo inquadrando la scalinata nel film di Fritkin, scalinata che ha fatto la storia del cinema, ci han fatto ballare anche Arthur Fleck, vi ricordate i brividi che si provava? Vi ricordate anche solo vedendo Ellen Burstyn che camminava, ma fatemi una... ma volete nell'epoca del fanservice un attimo sorprendermi o fammi camminare ora Chris McNeill, mettimi la canzone sotto. Cosa mi importa di vedere i cani che si mordono fra loro? Cosa mi importa di vedere queste due bambine che giocano a evocare i morti quando tutto è sbagliato e non sembra di vedere un film dell'orrore, ma piuttosto mi riguardo mille volte l'esorcismo di Emily Rose di Scott Derrickson, questo non è un seguito dell'esorcista, portate rispetto verso i capolavori, quindi non ho nient'altro da dire perché a livello di scrittura è roba da strapparsi i capelli e rincollarseli al posto della barba. A livello di regia non c'è una scena che si ricordi, è una regia col pilota automatico, è una regia veramente ai limiti del mediocre, non so cosa sia successo a David Gordon Green, ma per me regia non è solo tecnicismo ma anche come veicoli una sceneggiatura, come dirigi gli attori e qua è tutto, ve lo giuro, tutto sbagliato. In confronto Talk To Me è un capolavoro, è Orson Welles in confronto Talk To Me, quindi io non so cos'altro aggiungere, vediamo se ora Linda Blair, anche lei ha quasi 65 anni, possa tornare nel secondo che poi in realtà sarebbe terzo capitolo della saga, ma era meglio se lasciavano stare tutto, perché lo sappiamo, i seguiti dei tempi non sono andati bene. La serie su Fox idem, ora hanno voluto fare nell'epoca dei Ricoli il film che si ricollegasse all'originale, ma era meglio se tutto questo fosse rimasto un ricordo lontano. Quindi vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che nelle info potreste trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se deciderete di abbonarvi ricevereste poi in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Non ho parole, disse il muto. Alla prossima!